secondo me uno che compra una gigio del genere ha cattive intenzioni non mi serve altro per dirvi che questa è porcheria pura vi faccio vedere qual è la vera fregatura di sto oggetto di qualità sentite il rumore della qualità 60 euro buttati nel bidone in realtà è tutta fuffa su Amazon ci sono un sacco di ottimi prodotti a ottimi prezzi ma ci sono anche un sacco di prodotti scadenti e io come ogni anno vado sui best seller i più venduti più interessanti faccio la spesa e li provo e spoiler ho buttato un sacco di soldi ma l'ho fatto per voi e quindi se volete supportarmi vi basta lasciare un like sotto a questo video e iscrivervi al canale perché so che molti di voi guardate i video ma non siete ancora iscritti cliccate su quel bottoncino detto questo partiamo non prima di avervi ricordato che però i prodotti quelli veramente interessanti e in offerta li trovate sempre sul mio canale telegram dell'offerta al quale vi invito ad unirvi e allora una delle spese più ingenti che ho fatto per realizzare questo video è sicuramente l'acquisto di un condizionatore portatile quale miglior prodotto da acquistare quest'anno no il caldo è torrido e allora mi compro un bel climatizzatore da mettere sulla scrivania detto fatto ho cercato quello più interessante quello con più recensioni ed eccolo qui ho fatto un unboxing è semplicemente un cubetto però c'è tanto di cavo usb perché ha la batteria quindi è portatile c'è anche la sua maniglietta per trasportarlo e c'è anche il telecomando e allora il funzionamento è semplice lo chiamano condizionatore ma in realtà signori eccolo qui questo è un mini ventilatore con dentro l'acqua che hanno cercato di rendere un pochino tecnologico con la luce all'interno del vassoio dell'acqua si qua dentro ci va messa un po d'acqua qui dentro c'è una luce che va a creare diciamo questo effetto così che dovrebbe rendere tutto più piacevole vabbè comunque il libretto di istruzioni è tutto in italiano solo in italiano quindi questo mi fa intendere che sia un prodotto venduto da persone italiane fanno drop shipping o comunque importazioni telecomandino che funziona è abbastanza bene qui ho aumentato al massimo l'aria esce però è aria calda se si vuole rinfrescare bisognerebbe mettere acqua ghiacciata ma deve essere veramente ghiacciata si preme questo tasto eccolo vedete qui questo è il getto d'acqua che esce dal ventilatore e sì effettivamente stando qui davanti un po di refrigerio c'è però bisogna stare proprio così perché già se mi allontano al massimo della potenza si arriva alla fine è un ventilatore non è che ti rinfresca poi così tanto considerato che l'ho pagato 60 euro per avere questo scatolino che anche abbastanza rumoroso da tenere sulla scrivania ok alla batteria è tutto però dai insomma è anche un po imbarazzante se lavorate in ambienti con altre persone beh farvi vedere con questo oggeggio non lo so potrebbe non aumentare la stima che i vostri colleghi hanno nei vostri confronti del resto almeno funzionasse bene in realtà è tutta fuffa signori se avete caldo e non avete il climatizzatore piuttosto compratevi un piccolo ventilatore da 20 euro che tanto fa esattamente lo stesso servizio almeno il ventilatore riesce un po ad orientarsi e a girare e fa probabilmente anche meno rumore di questo aggeggino che spacciano come condizionatore ma condizionatore assolutamente non è quindi per me flop totale 60 euro buttati nel bidone non basta il telecomando non bastano le lucette a convincermi di aver fatto un buon acquisto assolutamente no epic fail e alla modica cifra di circa 40 euro ho comprato un power bank portatile con max safe dal design decisamente diverso rispetto agli altri power bank che avevo visto in questo momento e devo dire che non sembra niente male perché il mio iphone era assolutamente a zero era spento l'ho collegato lui era al 100 per cento tra l'altro c'è anche un bel display qui sopra che indica la percentuale di carica residua c'è anche una sorta di dissipazione in effetti non è bollente come alcuni max safe nella stessa categoria c'è ovviamente la sua presa usb si attacca e rimane attaccato allo smartphone all'iphone in particolare va subito in carica vi dicevo l'ho messo in carica circa un'oretta fa e l'ha portato da zero al 41 per cento la ricarica col max safe è notoriamente lentissima però devo dire che lui ha comunque ancora il 72 per cento di ricarica quindi se tanto mi da tanto si riesce a ricaricare più di una volta non scalda in maniera assurda ovviamente è caldo ma non particolarmente caldo e quindi mi fa pensare che questa dissipazione funzioni bene direi che il meccanismo è piuttosto solido e ha una forma che consente anche di tenere l'iphone così che può essere anche abbastanza comodo no tutto sommato mi sento assolutamente di dire che questo è un prodotto scam per 39 euro 99 ti dà comunque quello che ti aspetti in questa fascia di prezzo soprattutto una batteria capiente e in particolar modo delle temperature decenti che non vadano a friggere l'iphone soprattutto ora in estate c'è nella versione bianca come la mia secondo me è bella perché al contrasto con questo display nero ma c'è anche tutto nero tra il resto vedo ora che c'è persino un coupon del 30 per cento quindi potreste portarlo a casa a un prezzo decisamente più conveniente rispetto a quello a cui l'ho acquistato io questo non mi sento di dire che è una porcheria meno male almeno un prodotto è andato e abbagliato dalle buone recensioni e dalla classifica ottima di questo prodotto ecco meno di 10 euro comprato questo sembrava ammagliante dalle foto sembrava qualcosa di davvero unico e particolare cos'è è un supportino magnetico da smartphone in particolare da utilizzare in auto non lo so io pensavo che avesse un supportino con le alette o qualcosa di particolare invece guardate qua ha solo un adesivo poi qui se guardate sulla grafica c'è questo questa colorazione azzurra che fa pensare che si accenda si illumini invece in realtà non c'è assolutamente nulla non è wireless non è nulla è un pezzo di ferro snodato adesivo con vari adesivi magnetici perché vi faccio vedere qual è la vera fregatura di sto oggetto uno dice cavoli ho l'iphone col magsafe questo è magnetico ma non tiene nemmeno l'iphone col magsafe cioè capito la fregatura tu hai l'iphone magnetico ma non lo tiene non lo tiene devi attaccare l'adesivo magnetico al tuo iphone che è una cosa che io non farei voi fareste secondo me no e allora ecco che diventa magnetico perché mi scrivi supporto telefono macchina 360 gradi rotazione per iphone 13 12 11 galaxy confezione regalo nera ma secondo voi questa è una confezione regalo c'è una porcheria di cartone e non riesce a tenere nemmeno l'iphone in carica se non attacchi il tuo coso magnetico e infatti basta andare a vedere poi un po di recensioni e non è che il prodotto vada proprio per la maggiore secondo me qua nonostante costi meno di dieci euro sono dieci euro buttati siamo al limite dello scam un annuncio fatto bene molto meglio di quello che è realmente il prodotto che secondo me è assolutamente inutile se trovano alternative compatibili col mac safe decisamente migliori e nemmeno poi così care quindi dieci euro buttati 3 euro e 99 per un cavetto usb c direi non male assolutamente come offerta tra il resto è un due metri di lunghezza con specifica fino a 3,1 ampere ed eccolo qui il cavetto non è niente male arriva con la sua bella confezione in cartone due metri di lunghezza c'è anche la voci cavo bello ed è un cavo che da solidità è piuttosto spesso tutto telato ma quello che è importante sono sempre i connettori perché poi sono quelli che vanno di solito a rompersi qui c'è una guaina di rinforzo dove si attacca il cavo e anche il connettore mi sembra piuttosto solido ne ho rotti diversi io e quindi sono un esperto dall'altro capo però c'è un usb di tipo a e questo è un pochettino il difetto di questo cavo no l'ideale sarebbe stato usb c usb c ma tutto non si può avere soprattutto 3 euro e 99 la piccola feature in più che lo rende interessante è che lui qui sopra ha un led che si illumina di verde quando effettivamente la corrente va a alimentare il cavo ora un cavo deve essere resistente durevole se poi anche economico non male su questo devo dire non ho nulla da dire l'ho provato per un po di giorni l'ho messo anche sotto stress ed è un cavo molto molto resistente insomma per 3 euro e 99 si alle volte qualche affarino ci sta quindi anche in questo caso dai acquisto buono anche se il brand è sconosciuto secondo me ci sta ci sta bene dai almeno 3 euro e 99 spesi bene invece ho buttato via 6 euro per questa come possiamo chiamarlo questo aggeggio che sembra che sia rivoluzionario addirittura virale pensate che mi ha contattato un'azienda che voleva farmelo sponsorizzare ma io posso sponsorizzare una cosa del genere un pennino per pulire le airpods allora a me va bene tutto ok mi piace provare prodotti tutto quanto però questo è un prodotto che sì ci può stare si possono spendere questi 6 euro va bene se pensate che sia assolutamente necessario per pulire le airpods ma in realtà cos'è semplicemente una specie di penna stilo in metallo con due spazzoline che dureranno quello che durano per andare a togliere lo sporco che c'è diciamo dove si mette l'orecchio ma volendo ve lo dico poi vedete voi si può utilizzare tranquillamente un cotton fioc leggermente imbevuto io utilizzo quello lo imbevo con il liquido quello del display e vado a pulire esattamente quello che è lo sporco che si può accumulare sulle airpods che poi insomma se le pulite di frequente e se vi lavate le orecchie non sarà così tanto voglio sperare e quindi per me 6 euro sono da risparmiare io questo aggeggetto non mi sento assolutamente di consigliarlo anche perché nel mio caso sicuramente andrebbe in una e una sola maniera cioè lo compro poi lo metto da qualche parte mi dimentico quando mi serve non lo trovo non lo utilizzerò mai e quindi sarebbero assolutamente 5 6 euro persi però vedo che su amazon ce ne sono mille modelli perché perché probabilmente tutti questi personaggi che fanno drop shipping no cosa fanno lo acquistano 50 quanto costerà 50 60 centesimi in cina ok se lo fanno arrivare lo vendono mettiamo che a loro costa un euro e venti tutto due euro lo vendono a 6 funziona e basta non è che ci sono problemi di garanzia eccetera e quindi forse per questo che ce ne sono così tanti su amazon ma per me sono soldi buttati e potevo non acquistare questi auricolari 9 euro e 99 li ho pagati auricolari wireless senza brand assolutamente bianchi ma erano tra i primi in classifica e quindi se la gente li compra beh li devo provare non sarà mica che li comprano solo perché costano 10 euro confezione classica proprio super cinese mi ricorda tanto i cloni delle airpods cavetto infimo usb c col quale non ricaricherei proprio nulla poi toccandole con mano effettivamente si percepisce quanto è chip il cofanetto sentite a che bel rumorino è di qualità sentite il rumore della qualità fantastico auricolari direi generose nelle dimensioni non sapete cosa vi dico che mentre si ricaricano un pochettino vi faccio vedere un altro affare storto che ho fatto questo veramente potevo risparmiarmelo però puoi resistere a un annuncio su amazon che ti dice telecamera spia wifi 4k mini telecamera nascosta microcamera senza fili no 50 euro li dovevo mettere sul piatto e li ho messi però ero molto tranquillo perché c'era scritto lunga durata spy cam eccola qui la telecamerina effettivamente insomma non è grandissima però dobbiamo essere onesti non è nemmeno piccolissima è proprio una microcamera da nascondere ovunque certo è più facile da nascondere gli altri prodotti sapete qual è la particolarità di questa videocamera che scalda tantissimo qui ci sono i due tasti accensione reset dei led dei quali ancora non ho capito il funzionamento e qui sotto c'è la porta per la micro sd per fare i salvataggi in locale e una clip per inserire questa specie di supportino che è adesivo non c'è alcun modo di attaccarlo a vite eccetera anche se secondo me uno che compra un aggeggio del genere ha cattive intenzioni cioè non lo utilizza secondo me come telecamera di sorveglianza casalinga anche perché spoiler la batteria non è di lunga durata allora l'ho messa in salotto alle 5 di pomeriggio e alle 10 circa 10 torno a quell'orario lì già mi dava dei segnali di ricarica da effettuare alle 11 si è completamente disconnessa quindi dura circa 5 6 ore che è un lasso di tempo praticamente inaccettabile per una telecamera di sorveglianza casalinga io delle telecamere di sorveglianza che mi durano un mese due mesi tre mesi questa dura sei ore allora già qui escludiamo tutto l'utilizzo da videocamera di sorveglianza bisogna scaricare un'applicazione di dubbia provenienza al quale connettersi per farla funzionare perché effettivamente è wifi quindi si può connettere tranquillamente da remoto e visionare le immagini visionare quello che succede sentire anche l'audio volendo ovviamente impostare degli avvisi dei monitoraggi anche un sensore qui davanti che monitora i movimenti e andare a fare poi vari salvataggi che possono essere salvati in locale sull'Sd ma anche sullo smartphone direttamente ora si calda parecchio va bene la batteria dura poco secondo me assolutamente non va bene ma la definiscono come 4k secondo me non è nemmeno full hd guardate qui le immagini che si riescono a catturare con questa videocamera sono sgranate sono a bassa luminosità contrasto inesistente quindi questo prodotto beh secondo me è assolutamente scam totale non è abbastanza micro per essere una microcamera da spia non è abbastanza funzionale per essere una videocamera di sorveglianza ce ne sono di ottime che costano meno di questa costano sui 30 40 euro e di brand anche ben più conosciuti è vero che c'è un coupon del 20 per cento su questi 50 euro ma per me sono assolutamente soldi buttati questo è un prodotto da non acquistare quasi quasi scam e infine siamo arrivati a questi famosi auricolari che come dicevo suonavano la qualità vediamo se suonano soprattutto se riesco a connetterli al mio iphone y 99 niente abbinamento non riuscito ho visto cloni cinesi che si abbinavano molto meglio ah ma si vedono doppie però io non mi arrendo non mi arrendo ok connesso sento solo dall'auricolare destro già scariche allora non mi serve altro per dirvi che questa è porcheria pura questi sono veramente i prodotti da non comprare 10 euro è vero sono pochissimi ma li avete buttati piuttosto investite qualcosa di più su un prodotto come si deve vero costa poco ma secondo me sono 10 euro buttati direttamente nel bidone fortuna che sono i miei 10 euro e non i vostri e spero che questo video vi abbia fatto capire quanto su amazon anche nei best seller anche nei prodotti più ricercati anche nelle novità ci siano tra i tanti buoni prodotti delle porcherie bere e proprie assolutamente da non acquistare e allora ecco che il detto delle nonne che chi più spende meno spende trova un certo tipo di applicazione ma ovviamente sono curioso di sentire le vostre esperienze qual è il peggior prodotto che avete comprato su amazon dove vi siete detti ho buttato via soldi dai scrivetemi qui sotto se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like condividetelo con i vostri amici perché può essere utile per non prendere qualche facile fregatura e per il resto io non posso fare altro che ringraziarvi grazie da manolo agostini e noi ci vediamo per il prossimo video sempre qui sul mio canale youtube